Dal campo sportivo Monteponi un buon pomeriggio da Luigi Falqui come Riccardo Carta cura dalle immagini che vi stiamo trasmettendo in diretta per la sfida tra Iglesias e Calangianos valida per la ventotesima giornata del campionato di eccellenza non si aspetta solo il fischio che è arrivato in questo momento è cominciato Iglesias Calangianos con il primo possesso palla degli ospiti Piras alla fine perde il pallone Seci necessario anche l'intervento di Bringas che non vuole buttarlo torna dietro da Piras vedete un passaggio rischiosissimo per Ruiz che è saltato Daga Ruiz e sbaglia clamorosamente punta il fondo adesso lo va già mettere in mezzo il rimpallo lo aiuta la rimette dentro arriva Castandanes con la testa che il pallone rimbalza troppo presto e allora presa facile per Forzati del tentativo di trovare compagno all'indietta l'aveva trovato per un secondo Occhioni poi la plaz per Castandanes che controlla trattenuto il mancino murato con Furbizia Zara ha salvato il Calangianos il tocco invece è corto ancora per il soldato 1-2 ora il cross spizzato il pallone il colpo di testa vincente ha segnato Dombrovowski e avanti il Calangianos 1-0 39 minuti e 50 secondi la sbloccata Cipriand Dombrovowski punt Piras Pavone va a occupare un po' Senera di rigore poi invece è cercato di prima la conclusione forte ma centrale arriva il cross pallancola in area la girata la traversa poi ancora ancora traversa doppia traversa sfortunatissimo l'Iglesias Donedu da Pavone Vinicius due volte ancora Donedu a destra da Zedda in 4 possono entrare in area arriva il cross che diventa un tiro il pallone sfiora la rete ma dalla parte esterna di testa il solito Vinicius Pollanese a Lillario giù calcio di rigore la rincorsa lenta di Bringas Forzati tocca ma non basta e ora uno al Montefoni assegnato Bringas parità e subito invece cross di testa Pavone Forzati Hunt prova a rimetterla in mezzo Don Brovoski alza il pallone trova Hunt che può controllare da solo c'è Zedda anche a destra Zedda uno contro uno con Secci passa Zedda cross interessante per Ilario che va al volo ma cicca il pallone e lo mette sul fondo grande chance per l'Iglesias mentre pasticcia l'Iglesias Belloni in aria Belloni Daga sempre Daga a salvare l'Iglesias una grande uscita di Daga si fa sentire il Montefoni arriva l'Iglesias ma Zangara dice che non c'è più il tempo finisce qui al Montefoni pareggiano Iglesias Calanjanus uno a uno avanti a fine primo tempo il Calanjanus il recupero nella ripresa dell'Iglesias i marcatori come poco fa detto sono stati Dombrovoschi e Bringas di Dombrovoschi di Dombrovoschi